Il valore del falso made in Italy agroalimentare nel mondo ha superato i 100 miliardi di euro con un aumento record del 70% nel corso dell'ultimo decennio. La contraffazione e la falsificazione di prodotti alimentari rappresentano un grave rischio per la nostra salute, soprattutto quando vengono utilizzati ingredienti di bassa qualità o addirittura tossici provenienti da altri paesi. Ci vorrebbe un'etichetta ben chiara e che indichi l'origine degli ingredienti. E' la denuncia di Coldiretti all'Europa, Coldiretti che nel frattempo ha avviato una raccolta firme contro il falso made in Italy. La petizione è possibile firmarla ovviamente in tutti i mercati di Campagna Amica della nostra Coldiretti, in tutti gli uffici Coldiretti, ma è possibile firmarla anche online. Sulle marche abbiamo superato 10 mila firme e ancora siamo ai primi mesi. Abbiamo fino a ottobre del 2019, ma non aspettiamo, firmiamo subito per cercare di portare quella trasparenza sulle tavole. Al momento l'origine del prodotto è riportata su miele, olio d'oliva, frutta e verdura, pesce, carni bovine, suine, ovine, caprine e avicole, fresche, refrigerate o congelate. Per tutti gli altri alimenti invece l'etichettatura è di origine solo volontaria. Infatti su altre carni, latte, latticini, alimenti non trasformati e prodotti a base di singoli ingredienti, ad esempio farina o zucchero, non esiste. E quindi è per questo che i cittadini italiani ed europei devono avere, sottolinea Coldiretti, il diritto di essere protetti e di ricevere informazioni accurate sul cibo che scelgono di acquistare. Pretendiamo trasparenza da consumatori, dico non solo da produttori, pretendiamo trasparenza e che arrivino sui nostri piatti dei prodotti con la chiarezza sulle origini, con un'etichettatura trasparente. Questa è una battaglia storica da parte di Coldiretti, da 15 anni che da questo punto di vista battagliamo su tutti i tavoli. A livello nazionale stiamo portando avanti dei grandi risultati, ma ci vuole anche un qualcosa di più. Quindi a livello europeo questa ICE, questa iniziativa dei cittadini europei, deve raccogliere un migliore di firme. E un modo per fare acquisti sicuri e in tutta trasparenza c'è, è il mercato di campagna amica. Potete trovarci sicuramente in tante piazze a Fano e Piesaro seguendo i gazebi gialli. Questi sono sino minimo di garanzia.